Ciò che rimane. Cerchio Firenze 77. Attraverso Roberto Setti. Essere e divenire. 16 marzo 1972. A cura di Vubbi. Dali. Eccoci ancora una volta in questo colloquio fra incarnati e disincarnati. Creature che appartengono ad una dimensione e altre che di essa non ne sono più schiave. Noi possiamo comunicare con voi e voi udire le nostre parole. Ebbene, di tutto questo fenomeno qual è l'aspetto vero e reale? Qual è la verità che è essenziale? Forse questo miracolo, tanto bello e incredibile, di una comunicazione di creature esistenti in piani diversi, è la testimonianza della sopravvivenza alla morte della vita? No, poiché questo sarebbe unicamente un aspetto incidentale. Ciò che rimane di queste riunioni non è la testimonianza della sopravvivenza alla morte dell'animo dell'uomo, ma è ciò che voi udite, ascoltate, percepite qua. E' ciò che voi trascrivete nell'intimo vostro di questa verità. Questo è importante, di modo che se questo fenomeno un giorno sparisse, venisse dimenticato o da nessuno conosciuto, egualmente sarebbe valido se voi da esso ne aveste tratto una utilità. E conciò la risposta alle vostre domande. Ma perché noi dobbiamo udire queste parole e non altri? Perché queste verità, la prima volta che sono dette in modo così avverto, devono essere patrimonio di poche creature? Ebbene, figli, che cosa rimane nel vostro tempo delle meravigliose civiltà trascorse? «Cenere e polvere, perché i frutti delle civiltà non sono e non stanno in che cosa le civiltà hanno edificato, ma in ciò che le civiltà hanno trascritto nell'intimo delle loro creature. E i frutti delle nostre riunioni non stanno in ciò che noi riusciamo a costruire di tempio esteriore, ma in ciò che noi riusciamo a stabilire nell'intimo vostro, nel segreto del vostro cuore. Quella è la verità di questi insegnamenti e quella in qualche modo ci compensa della fatica». Grazie a tutti.